Sindaco, caro, un piccolo comune, però dal punto di vista delle risorse culturali direi che ha l'avanguardia. Da poco si sono conclusi i lavori di restauro dell'antica casa di Niccolò Paganini e da questo punto di vista ci sono delle iniziative in corso che riguarderanno il periodo da qui alla fine dell'anno. Dunque è stato un lavoro duro che è durato quasi cinque anni. Siamo partiti in realtà con l'acquisto del fabbricato della casa del nonno paterno di Niccolò nel 2008 dopodiché i primi finanziamenti li abbiamo avuti nel 2011. In realtà questo fabbricato era completamente diroccato e quindi abbiamo dovuto fare pre-step prima una messa in sicurezza dei fabbricati adiacenti dopodiché negli anni siamo riusciti piano piano a raggiungere questo per noi importantissimo obiettivo che è quello del restauro completo della casa. Manca ancora un piano semi-interrato ma ci stiamo arrivando e quindi approfitteremo di queste vacanze natalizie siccome è sorto un comitato spontaneo in aiuto della Croce Verde di Carro per l'acquisto del defibrillatore per inaugurare il fabbricato. L'inaugurazione si terrà a Carro il 28 di questo mese e alla presenza di personaggi importanti. La più famosa diciamo è la Garibotta Arianna che ha appena vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Poi abbiamo uno scrittore, un ragazzo giovane di 20 anni che sta ricevendo importanti premi sia in Polonia che in Germania e seguirà poi sempre di pomeriggio un concerto di un nostro compaesano Nicolo Ricci, un pianista con la collaborazione di una contrabassista che è Sofia Bianchi. Al di là dell'inaugurazione della casa della famiglia di Nicolo Paganini ci saranno anche dei mercatini di Natale? È sordo spontaneamente un comitato prima di Natale formato da alcune mamme dei bambini della scuola alimentare di Carro per organizzare all'interno di questo edificio che si sviluppa su tre livelli al primo piano dei mercatini di Natale e di Zia al coperto. Al secondo piano hanno fatto dei laboratori per i bambini e al terzo piano una sala dove si possono proiettare dei film sempre per i bambini. Ricordo anche che nella via storica di Paganini c'è l'asinello che porta in giro i bambini a fare una passeggiata all'interno del centro abitato. Grazie a tutti.